Stanco di scribacchiare appunti e di citare su un display per impostare la macchina in campo? Anche noi lo eravamo. Ecco perché abbiamo ideato Auto Setup, che dimezzerà i tempi di impostazione nel campo. I nostri clienti ci hanno detto che apprezzano la nostra funzionalità di automazione, ma perdono troppo tempo nel campo per impostare il loro trattore. Abbiamo quindi studiato una soluzione e sviluppato Auto Setup. Consente di creare il lavoro in anticipo tramite smartphone sul web, in Operation Center, un giorno, una settimana, un mese prima che le operazioni vengano effettivamente svolte. Poi, quando sei pronto, basterà inviare l'operazione al trattore. Quando l'operatore arriva sul campo e supera la linea di confine, il ricevitore StarFile riconosce la sua posizione e l'icona dell'operazione appare sul display. Il conducente deve semplicemente confermare e cominciare l'operazione. Senza errori, senza ritardi. Il tempo è denaro e i nostri calcoli hanno dimostrato che Auto Setup consente di risparmiare fino a 4 euro per ettaro, con un solo clic. L'intelligenza per risultati migliori.